Io sono Aurora e lavoro come educatrice presso il Comune di Roma da 16 anni. Ho sempre lavorato in questo mondo, mi sono sempre trovata molto molto bene. È stata una bella esperienza fin da subito perché le colleghe che ho trovato quando sono entrata erano in piena formazione. Abbiamo avuto circa 10 anni di formazione splendida, 10-12 anni. In questi ultimi due anni cominciano ad esserci un po' delle difficoltà. Incontriamo le difficoltà economiche, quindi la formazione sta un po' frenando. L'asilo unito oggi più che mai è proprio questo, è l'ambiente educativo che aiuta il bambino a formarsi. Quindi educare un bambino vuol dire aiutarlo e metterlo in condizione di diventare una persona. Sono delle persone che hanno bisogno di ambienti stimolanti per crescere, per diventare degli adulti che poi sapranno muoversi nella società, sapranno gestirsi nelle relazioni. Perché all'interno del nido si fa anche questo, si costruiscono delle relazioni. I bambini sono perfettamente in grado di farlo. Il progetto 06 ci dà la possibilità di dare quella continuità che in questo momento manca al servizio nido e al servizio scuola dell'infanzia. Questi due ambiti, che sono fondamentali e sono molto importanti, purtroppo in questo momento sono scollegati e non c'è appunto continuità. Quindi il bambino che finisce il suo percorso all'interno dell'asilo nido, quando va alla scuola dell'infanzia è come se ricominciasse da capo. Non c'è un passato, perché non c'è un collegamento tra le educatrici dell'asilo nido e le insegnanti della scuola dell'infanzia. La legge 06 ci permette in qualche modo di dare corpo a questa continuità che deve esserci tra il nido e la scuola dell'infanzia.